Cari amici, buongiorno, ho il grande piacere di avere ospite qui un fine biblista, professore di economia, studioso Armando Savini, già credo che lo conosciate perché mi sono occupato delle sue pubblicazioni in passato sulle pagine di Libero. Ecco, oggi parleremo di una sua fatica che ha venduto già parecchie copie e che si chiama L'ultimo anticristo, identikit dell'uomo più diabolico della storia secondo le profezie antiche e moderne. È un libro naturalmente destinato a far discutere. Innanzitutto chiederei ad Armando Savini che saluto di raccontarci qualcosa di sé e come ha coniugato la sua preparazione nel mondo dell'economia e della ricerca per il business e quello dell'esegesi biblica e della mistica ebraica. Buongiorno Armando. Buongiorno a te Andrea e a tutti coloro che ci seguono. Allora, io sono stato docente di economia, storia economica e metodi di ricerca per il business in alcune università private a Roma e ho cominciato alla sapienza come cultore della materia di politica economica e quindi diciamo che la parte, la sfera che possiamo così definire del negozium appartiene insomma all'economia, alla politica economica anche vista sotto la luce della teoria della complessità, quindi un pochino da una prospettiva diversa da quella imperante. Nella fase, chiamiamola dell'ozium, mi occupo da ormai molti anni di esegesi biblica e mistica ebraica. Sono sempre stato molto appassionato del testo biblico e sono dopo un po' di anni riuscito anche a esaminare i testi originali, in modo particolare il testo ebraico, aramaico, greco e latino, che ci dà diciamo tutti quei gradi di libertà, quindi sai accedere direttamente a un testo, ci aiuta a bypassare le traduzioni a volte un pochino abusive, sai traduttore, traditore, quindi c'è una maggiore capacità di analisi, ecco possiamo tirar fuori dal testo e questo è proprio il significato di esegesi, tirare fuori dal testo. L'ultimo anticristo è uno dei miei ultimi libri, sempre che riguarda questa tematica dell'esegesi e della mistica ebraica, ne ho scritto anche già altri, tipo il messia nascosto tempo fa in cui esaminavo l'antico testamento alla luce del testo aramaico, dei Midrashim e di tutti i testi esatenziali ebraici per trovare tutti quei passaggi, tutti quei vaticini sul messia nell'antico testamento, quindi i miei studi affondano da molto tempo in questo campo. L'ultimo anticristo... Ecco, hai fatto studi sul messia ma hai fatto anche studi sul suo contrario, ci puoi spiegare, riepilogando in breve, chi sarebbe l'anticristo per la tradizione cristiana? Ma l'anticristo è colui che si oppone a Cristo, il termine lo ritroviamo dalla lettera di Giovanni quando dice che molti sono gli anticristi che sono usciti da di mezzo a noi e dice non erano dei nostri, erano in mezzo a noi ma non erano dei nostri, quindi l'anticristo è colui che si pone o davanti a Cristo oppure non si fa discepolo oppure è contro Cristo e quindi contro Cristo e contro tutto il suo messaggio di salvezza. Ecco, mi viene in mente una... una... mi hai fatto venire in mente adesso il fatto che Papa Benedetto in ultime conversazioni, in diversi passi riferiti a Bergoglio, come sai lui diciamo un po' si arrampica sugli specchi per dare delle... dei cavallerischi di riconoscimenti di decisionismo, determinazione nel suo antagonista, ma senza mai esprimere giudizi univocamente positivi né dal punto di vista morale né dal punto di vista personale. Ecco, lui più di una volta dice è molto diretto con gli altri, con i suoi simili e soprattutto in una intervista sempre con Peter Sevald che gli sottopone la... diciamo quella affermazione di Giorgio Agamben per il quale Papa Benedetto con le sue dimissioni avrebbe separato la Babilonia dalla Gerusalemme Celeste, cioè la chiesa dell'anticristo dalla chiesa di Cristo, lui ripete spesso ecco, Papa Francesco è molto diretto con gli altri, questa cosa degli altri, non pensi che possa riferirsi a quelle persone che come dice Papa Benedetto rispondendo a Sevald e sua Agamben sono nella chiesa ma non fanno parte della chiesa e anzi sono contro di essa. Ecco, permettimi di di leggerti esattamente le parole di Benedetto, quando Sevald dice ma Agamben aveva fatto riferimento alle sue dimissioni come rafforzamento del papato per la separazione della chiesa di Cristo e della chiesa dell'anticristo e lui cita Sant'Agostino il quale disse che da un lato molti sono parte della chiesa in modo solo apparente ma in realtà vivono contro di essa. Ecco, secondo te questi altri, questi che sono nella chiesa ma non fanno parte della chiesa e che vivono contro di esse, potrebbero essere in qualche modo associati a questa figura di anticristo? Beh, sì perché l'anticristo è colui che vive contro Cristo ma vive anche nella chiesa, cioè la sua essenza è anticristo, cioè è contro Cristo, quindi deve per forza essere nella chiesa. Come dice Giovanni nella sua lettera, erano in mezzo a noi ma non erano dei nostri, cioè fisicamente appartenevano alla comunità ma essenzialmente non appartenevano a Cristo. Quindi la risposta che ha dato Benedetto XVI in quell'occasione, citando addirittura il Vescovo di Ippona, è molto importante perché ci ricorda che la chiesa è un corpo bipartito, ma questo è un concetto, Andrea, che già Ticonio lanciava tempo fa e ricordiamo che Benedetto era un profondo ammiratore di Ticonio. Ricordo che in un'odienza del 2009 Benedetto proprio fece un'omelia che era dedicata alla figura di Ambrogio Aperto e si richiamò a Ticonio e al suo Liber Regularum, dove proprio si legge che il corpo bipartito del Signore, si legge, no? E del corpo del diavolo, quindi erano la seconda e la settima regola. Ticonio ha condizionato anche alcuni padri della chiesa, io penso a San Cesario per esempio, Primasio, Beda il Venerabile, che hanno letto l'Apocalisse secondo lo schema di Ticonio. Quindi ecco questa compresenza di una vera chiesa di Cristo e di una falsa chiesa è un qualcosa che noi troviamo già dal V secolo. Mi riferisco in modo particolare a San Cesario che è un grande padre della chiesa e che è stato, insomma, il suo commentario dell'Apocalisse lo tengo sempre con me e l'ho citato spesso anche nel mio libro. Quindi ecco questa separazione che poi ritroviamo anche all'interno dell'Apocalisse, perché quando noi leggiamo della seconda bestia che sorge dalla terra, che ha forma di agnello, quindi immagine di agnello, quindi l'immagine, l'agnello per eccellenza è Cristo, ma voce di drago, quella secondo per esempio alcuni teologi, mi viene in mente, non so, Augustin Lemont, che ha scritto l'Anticristo nelle prime del Novecento, ma anche altri teologi e commentatori, ecco questa bestia è proprio il corpo, potremmo dire così, quella parte della chiesa che non appartiene a Cristo. Quella parte della chiesa che è così in maniera apparente, ma in realtà è quella parte che vive contro di essa, è quella parte che poi pone l'Anticristo e in un certo senso chiede al mondo, con il mondo, con gli abitanti della terra, di porre questa figura. Secondo alcuni commentatori, per esempio, e mi per esempio la massoneria, molti hanno visto in questa la massoneria, nella bestia che sale dalla terra, la massoneria ecclesiastica, che poi mette l'Anticristo, che è immagine, ricordo, è immagine della bestia, cioè immagine della massoneria, seguendo questa lettura, e l'Anticristo che poi Paolo ci dice, nella lettera ai Tessalonicesi, che siede sul Tempio, siede nel Tempio, e il Tempio è, secondo sempre il lessico paolino, è il corpo di Cristo, il corpo mistico di Cristo e quindi la chiesa. Molto interessante, ma adesso vorrei chiederti brevemente di spiegarci come nasce questo tuo libro e che cosa raccoglie, perché tu lo hai definito un identikit dell'uomo più diabolico della storia, secondo le profezie antiche e moderne. Vuoi farci una rapida carrellata delle tue fonti, delle profezie antiche e moderne che hai consultato? Allora, il testo e la prima parte è costituita dall'analisi esegetica, quindi prendiamo in esame tutti quei passi che, secondo la tradizione della Chiesa Cattolica, sono prefigurazioni dell'anticristo. Passi dall'Antico Testamento, certo qualcuno dirà, ma anticristo non si può trovare nell'Antico Testamento. È vero, perché è un neologismo che ha creato Giovanni, ma ci sono nell'Antico Testamento delle prefigurazioni, quelli che si chiamano i tipi dell'antitipo, l'antitipo è la realtà finale, la realtà ultima, il tipo è la prefigurazione. Quindi partendo dalla Genesi, per arrivare poi fino all'Apocalisse, ho preso tutti questi passaggi che anche poi i padri della Chiesa hanno riconosciuto come anticipazioni, come prefigurazioni dell'anticristo. Quindi c'è una parte esegetica che riguarda questi passaggi. Quindi penso alla figura di Nimrod, per esempio, per citartene una, nella Genesi. Poi penso, non so, al re di Babilonia di cui parla Esaia nel capitolo 14, ai passaggi di Geremia, fino ad arrivare a Daniele, profeta Daniele, che prendendo come esempio Antioco IV Epifane definisce appunto la figura dell'anticristo, questa prefigurazione, che poi riprenderà Paolo nella sua lettera ai Tessalonicesi. Fino ad arrivare al capitolo 9, per esempio, dell'Apocalisse, dove si parla di una stella che cade dal cielo. Ora il cielo è la Chiesa, la stella è un Vescovo e questa è una stella ardente. Quindi secondo i padri, parliamo di Beda, di Cesario, eccetera, è un Vescovo apostata che si allontana dalla Chiesa e quindi dalla dottrina vera cattolica di Cristo. Quindi ecco, questa è la prima parte. Poi c'è un'analisi dei padri della Chiesa, quindi come i padri della Chiesa hanno letto le scritture e il loro pensiero sull'anticristo. E poi la terza e ultima fase rientrano appunto le rivelazioni riconosciute e non riconosciute ufficialmente dalla Chiesa Cattolica. Penso per esempio a Fatima, penso alla Salette, per arrivare ad altre rivelazioni come Bruno Cornacchiola, oppure i libri della Maria Valtorta, alle visioni della Emeric. Quindi ecco, mettendo insieme tutti questi tasselli arriviamo a definire un identikit. Ecco, di mio c'è molto poco, mi sono limitato a mettere insieme i tasselli e a ordinare questo mosaico. Ecco, appunto però avrai dovuto fare sicuramente un lavoro per tracciare un minimo comune denominatore fra tutte queste fonti. E allora qual è il ritratto che emerge di questo anticristo? Diciamo mettendo a fattor comune tutte le fonti che è studiato. Ma guarda, l'ultimo anticristo abbiamo già visto è un grande umanitario, un pacifista, un europeista, ecologista ed ecumenista. Queste erano per esempio le indicazioni che troviamo nell'omelia che fece l'arcivesco di Newport, Fulton Sheen, che andò in onda nel 1947, e lui parla proprio dell'anticristo. Dice, non sarà chiamato così, se no nessuno lo segue. La sua logica è semplice, se non c'è un paradiso non c'è neanche un inferno, se non c'è l'inferno non c'è il peccato, se non c'è il peccato non c'è il giudizio, no? Diceva. E se non c'è il giudizio allora il male è bene, è bene, è male. E quindi ecco, questo era un pochettino per darci un'idea. E poi si domanda, Fulton Sheen, ma dice, ma in che modo verrà in questa nuova era per convincerci a seguire il suo culto? E quindi dice, verrà vestito da grande umanitario, parlerà di pace, di prosperità, di abbondanza, non come mezzi per portarci a Dio, ma come fini a se stessi. Poi scriverà un libro addirittura sulla sua idea di Dio, diffonderà la fede nell'astrologia per incolpare le stelle dei nostri peccati. E poi ecco, una cosa interessante, diceva Fulton Sheen, spiegherà psicologicamente la colpa in termini di sesso represso, farà sprofondare gli uomini nella vergogna se gli altri uomini diranno che non sono di mente aperta e liberali. Identificherà la tolleranza con l'indifferenza. Quindi ecco, ci dà un ritratto molto dettagliato e dice anche che istituirà una controchiesa che sarà una scimmiottatura della chiesa, quella vera, perché lui il diavolo è la scimmia di Dio. Quindi questa chiesa sarà il corpo mistico dell'anticristo, quella che secondo Ticonio convive con la vera chiesa di Cristo. Poi penso anche a Solovio, per esempio, che parla anche lui addirittura di una religione universale che avrebbe, diciamo così, istituito all'interno di un palazzo-tempio delle religioni universali, e addirittura c'è anche il mese Solovio, nel mese di settembre. Quindi ecco, tutti questi elementi ci aiutano a creare questo identikit, a partire dalle scritture. Prego. Possiamo dire che l'anticristo lo si riconosce per via logica? Perché prima hai fatto una brillante concatenazione di principi, no? Se non c'è l'inferno, non c'è il paradiso, non c'è il peccato, eccetera, eccetera. Allora, possiamo dire che il logos è quello strumento che consente di individuare questa logica perversa nel programma dell'anticristo? Ma penso di sì, perché il logos nella tradizione giovannea è proprio la parola di Dio, è il Cristo fatto carne che annuncia la salvezza. Tutto ciò che è anti-logos, quindi va contro la logica, perché il peccato, secondo la tradizione cattolica, va contro il logos, va contro la logica di Dio, contro la legge di Dio. Quindi sì, penso che l'anticristo lo possiamo vedere anche come un anti-logos. Ma la cosa interessante è che, per esempio, mi è fatto venire in mente questo, che nelle profezie di Daniele si dice che il parlare dell'anticristo è astuto, parla con inganno, quindi ha un modo di vestire, possiamo dire così, la sua visione di Dio, che non è una visione corretta, con termini e con modalità tipiche della Chiesa. Cioè usa un linguaggio ecclesiale per dare un'idea distorta di Dio. Quindi è una persona che ha questo linguaggio ambiguo e quindi crea confusione. Questo lo troviamo proprio nel Dentichitta, ecco, che fa Daniele. Come dice anche che è un tipo abietto e che guadagnerà il trono con la frode e con l'inganno. Quindi è una persona che è l'espressione dell'antilogos, è l'espressione della scimmia di Dio. Ecco, prima hai citato Ticonio, di cui io spesso ho scritto nei miei articoli. Ecco, Ticonio diceva che questa Chiesa del Diavolo viene portata avanti da vescovi che, diciamo, hanno tradito, sono passati dall'altra parte. Secondo te, riprendendo in parte quella fantasiosa teoria sul Papa Diavolo, che qualche studioso aveva portato per giustificare Bergoglio. Dice, beh, siccome tra gli apostoli c'era Giuda, che era un diavolo, allora il Papa è un successore degli apostoli e quindi è lecito e ammissibile il Papa Diavolo. Tutto naturalmente per giustificare le aberrazioni bergogliane. Ora, il nostro studioso, di cui è pietoso tacere il nome, dimenticava che il Papa è successore di San Pietro e non di un apostolo qualsiasi. Ma, visto che questo vescovo apostata di cui parli nel tuo libro, non potrebbe essere considerato un successore di Giuda o è una, diciamo, una fuga in avanti eccessiva? Ma, guarda, non lo so. Io so che, per esempio, quando Paolo parla dell'uomo dell'anomia, del figlio di perdizione, usa questa espressione, figlio di perdizione, che è la stessa espressione che usa Gesù nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, quando parla di Giuda. E San Bonaventura, nel suo, in un suo scritto, che appunto parlava dell'anticristo, e era, se non ricordo, i dodici misteri dell'anticristo, lui, tra le varie prefigurazioni dell'anticristo, mette proprio Giuda. Però Giuda è una prefigurazione. Cioè, se Giuda è crudele, l'anticristo sarà crudelissimo. Quindi c'è questo legame, questo filia rouge, quindi ha questa sintonia anche con Giuda. Ecco, a proposito di questo vescovo, sul blog di padre Livio Fanzaga, non so, recentemente, se hai visto questo articolo, in cui lui dice che una certa tradizione protestante ha apparentato il pontefice romano con l'anticristo. E allora padre Livio dice, anche nel sottobosco cattolico, adesso c'è qualcuno che vocifera circa una possibilità che la chiesa sia stata occupata da forze anticristiche, eccetera, eccetera. Diceva poi, no, ma comunque nessuno parla mai di Papa Francesco, cosa smentita dai fatti, perché gli danno dell'anticristo un giorno sia l'altro pure. Quindi Don Livio Fanzaga, insomma, sembra un po' vivere nel suo mondo. Ma lui diceva, beh, certo non può essere il Papa l'anticristo, perché il Papa è il vicario di Gesù Cristo, quindi al massimo potrebbe essere un antipapa. E questo antipapa, non essendo Papa, visto che con il papato e con l'antipapato, si perde il rango cardinalizio, se questo antipapa venisse scelto fra i cardinali, sarebbe un vescovo che perde la dignità cardinalizia e quindi ritorna vescovo e quindi diventa un vescovo vestito di bianco. Che ne pensi? Guarda, non ho seguito molto Padre Livio. Ora, sul fatto che un Papa non possa essere l'anticristo, io vado per logica perché non sono un esperto di diritto canonico, mi sembra chiaro in quanto il Papa è il vicario di Cristo e quindi fa le veci di Cristo e può portare avanti e difendere il greggio di Cristo. Quindi, ecco, su questo non c'è dubbio. Però, credo una cosa, l'anticristo può essere un vescovo, o meglio, è la figura di un vescovo quella che emerge anche esaminando le scritture, ma ti dirò di più. L'anticristo, se noi andiamo a leggere il capitolo 9 dell'Apocalisse, leggiamo di questa stella che cade dal cielo che apre il pozzo dell'abisso. Ora, la chiave indica autorità. Se noi andiamo a leggere il capitolo 20, versetto 4 della Genesi, leggiamo che un angelo con in mano una chiave, una catena, incatenò il drago, cioè Satana, e lo rinchiuse nell'abisso e rimase chiuso per mille anni, fino a quando dovrà riuscire per tentare la terra e gli abitanti della terra. E quelli sono i tempi ultimi e ci sarà l'attacco finale alla Gerusalemme celeste, cioè la Chiesa. Ora, secondo i padri della Chiesa, questo angelo che con la catena in mano e la chiave mette sotto il gioco della catena e quindi chiude nell'abisso il drago, è Cristo. E i mille anni non vanno intesi come numero, ma sono il tempo della Chiesa, il tempo in cui verrà annunciato il Vangelo fino a quando subentrerà l'anticristo. Quindi, se noi rileggiamo il capitolo 9 alla luce del capitolo 20 dell'Apocalisse, ci accorgiamo che questo vescovo che apre le porte dell'abisso ha una chiave, quella stessa chiave con cui Cristo aveva chiuso le porte dell'abisso. In seconda istanza ricordo che l'ex gesuita Malachi Martin, che lesse, ricordo, il segreto di Fatima, quando fu intervistato alla radio negli anni 90, lui aveva fatto un giuramento, quindi non poteva assolutamente rivelare il segreto. E nel 98, durante l'intervista radiofonica che rilasciò a Art Bell, disse che l'ultimo Papa sarebbe stato sotto il controllo di Satana e Papa Giovanni, dice, svenne pensando che potesse essere lui. Quindi ecco, questa era, diciamo, la frase che riportò a Art Bell, perché Art Bell parlava di un amico australiano che gli aveva detto queste cose. Malachi Martin non poteva rispondere e quando gli viene chiesto, ma queste cose che mi hanno detto sono vere, Martin risponde, sì, sembra che stesse leggendo o che gli fosse stato rivelato il testo del terzo segreto. Ora, sia Malachi Martin, sia la Cardinal Ciappi, sia il Cardinal Oddi, per esempio, lessero il terzo segreto di Fatima e dissero, non potendolo rivelarlo a nessuno, ma diedero qualche così, qualche linea e dissero appunto che la grande, il problema della, la grande catastrofe annunciata dal segreto di Fatima non era tanto la guerra nucleare, quanto l'apostasia che sarebbe partita dalla sommità della Chiesa. Quindi questa era la più grande minaccia. Quindi il fatto che un Papa, diciamo così, possa essere l'anticristo, in realtà è una cosa possibile. Però dobbiamo sempre tener conto che l'ultimo anticristo, come ci ricorda Daniele, è un re, uno che ha, diciamo, dominio, ma che arriva sul trono in maniera fraudolenta. Certo, beh, diciamo che mi ricorda qualcosa, ma come sappiamo il diritto canonico vieta di indicare chi sia l'anticristo, vero? Ci vuoi ricordare questa, questa ammunizione? Ma guarda, il diritto canonico non so quale canone, io parto da due, diciamo, elementi molto semplici. Uno di buonsenso, infatti io non ho mai fatto nomi e non credo di esserne all'altezza perché non ho l'autorità. Il primo è che non c'è mai fine al peggio, quindi quello che tu pensi essere oggi l'anticristo potrebbe essere il suo precursore. Pensa a quanti hanno detto che Hitler era l'anticristo, poi dove è arrivato Stalin. In seconda istanza, nella lettera ai tessalonicesi, San Paolo è molto chiaro, sarà rivelato l'uomo della nomia, sarà rivelato, è un passivo divino e vuol dire Dio lo rivelerà. Quindi vuol dire che questo personaggio che la Valtorta ci dice essere molto in alto, può essere additato solamente da Dio stesso alla sua seconda venuta. Quindi non abbiamo, io perlomeno questa autorità non ce l'ho. Ciò nonostante la chiesa non ci dice che non possiamo studiare l'anticristo per farcene un'idea e in caso non tanto per curiosità ma per non rimanere, diciamo così, intrappolati nella sua rete. Certo. Senti, invece mi sembrava di aver letto che questo bescovo apostata dovrebbe risiedere a Roma. Quali sono le fonti che dicono questo? Ma questo è uno dei segreti della Salette. Ricordiamo che Melani e Maxima erano due pastorelli che ebbero le rivelazioni della Beata Vergine Maria e alla Salette e non furono mai creduti, ebbero molti ostacoli anche da parte dei sacerdoti perché alla Salette la Vergine parlava appunto della rivolta, del clero, di molte anime che si perdevano a causa dei sacerdoti, dei vescovi che non seguivano più Gesù Cristo. E mandarono questi due pastorelli delle lettere a Papa Pio IX che tenne in considerazione la cosa. E addirittura in una lettera di Maxime, di questo pastorello, si dice che il regno dell'anticristo sarebbe stato Roma e che l'anticristo sarebbe arrivato negli anni del 2000. Questo lo si può trovare proprio nel testo, anche perché sono più lettere che hanno scritto questi due pastorelli. Quindi è una rivelazione riconosciuta dalla Chiesa stessa, che appunto è quella di la Salette. Quindi, allora, se ho capito bene, questo anticristo dovrebbe essere un vescovo apostata che risiede a Roma, che è un grande amante della pace, un grande umanitarista, europeista, sincretista, amante della natura e dell'ecologia e che però mira a, diciamo, sminuire la divinità di Cristo, se non addirittura rinnegarla. Siamo calibrati sul giusto ritratto? Sì, ti dirò di più. Per esempio, San Bonaventura da Bagnoreggio, lui ci dice che uno dei precursori delle prefigurazioni dell'anticristo è Balaam. Ricordiamo che Balaam era quel sacerdote indovino di Peton in Mesopotamia che ci dà anche le sue profezie, ricordiamo nel libro dei numeri, capitolo 23-24. Questo ci dice però che Balaam era un'idolatra che però ha il dono della profezia. Quindi l'ultimo anticristo avrà il dono della profezia ma sarà allo stesso tempo un'idolatra e negromante, pur dicendo cose buone, quindi innalzerà idoli sull'altare. Questo è quello che ho scritto nel libro, proprio ripercorrendo tutte queste strade. Quindi questo è un altro dettaglio molto importante, ma mi permetto Andrea di chiudere con una citazione, con un riferimento che è molto esplicito a mio avviso e si parla, non c'entra niente con le scritture né con i padri della Chiesa. Riguarda lo scrittore Joseph Roth che nel 34 pubblicò l'anticristo. E' molto interessante questo passaggio che poi parla dell'anticristo perché lui dice che c'è questo monaco che parla con l'autore e dice che un giorno vide al posto del Santo Padre sulla catena di Pietro un altro. Il Santo Padre si addormentò e un giorno ne vide un altro. Dice uno completamente diverso. che chiama gli stati nemici della Chiesa e con loro fa un accordo. Quindi come vedi l'idea che l'anticristo possa essere un papa, anche un papa addirittura, quindi non solo vescovo ma anche un papa, non so se di fatto o de jure. Però c'è proprio questo passaggio, che adesso non ricordo, proprio verso la fine del libro, in cui poi l'autore dice sta scritto che verrà un tempo in cui l'anticristo siederà sulla cattedra di San Pietro, rivestito di tutti i segni della dignità del suo padre. Ora, sta scritto vuol dire che è un riferimento alla scrittura. Ora, Roth era ebreo, quindi il primo riferimento che mi può venire in mente è quello di Zaccaria 11-17, quando parla appunto del pastore idolo. Questo è un passaggio molto importante perché addirittura alcuni padri della Chiesa, come Girolamo e come Didimo il cieco, hanno vinto in questa figura del pastore idolo proprio una prefigurazione dell'anticristo. Addirittura l'espressione ebraica, letteralmente Rachi, che era un commentatore, dice che Ha-Helil indica insignificante senza valore e veniva indicato per definire gli idoli pagani. Quindi pastore senza valore, pastore di nulla o pastore nullo. E poi fa un parallelo medici che fa valore, medici nulli. Quindi ecco, questo potrebbe essere… Ecco, permettimi di fare un rimando un pochino audace. Ricordiamo la Universi Dominici Gregis che i nostri ascoltatori ben conoscono perché parlano dell'elezione papale, eccetera. All'articolo 76 si dice che se l'elezione fosse avvenuta altrimenti, come è prescritto nella presente Costituzione, l'elezione perciò stesso nulla è invalida e quindi essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta. Cioè questa idea di nullità, questo pastore nullo, chi potrebbe essere? Un antipapa che non è papa magari perché il vicario di Cristo era in sede impedita? Chi lo sa? Strano che Bergoglio sia un grande umanitarista, sia un vescovo vestito di bianco, sieda sul trono di Pietro, eccetera, eccetera. Voglio dire, non si può dire assolutamente chi è l'anticristo, però non si può neanche mettere il blocco, il blocco a sterzo alla propria ragione. Ma volevo chiederti un'altra cosa, c'era Papa Benedetto XVI che diceva che aborto e nozze gay sono segni dell'anticristo. Per quale motivo secondo te? Ma questo lo riportava nel suo ultimo libro quando parla di anticristo e lui dice appunto che c'era anche un altro atteggiamento che considerava, cioè l'anticristo è uno che considera come fondamentalisti i veri cattolici, i veri credenti. Quindi ecco questo era uno degli elementi, lo troviamo proprio nell'ultimo libro, una vita, Benedetto XVI, una vita, e tra questo diceva che porta avanti il matrimonio omosessuale e come dicevi tu l'altro elemento. Sì, questo è uno degli elementi che anche ho preso in considerazione per quanto riguarda questo identikit. ecco io in un mio vecchio articolo scrivevo circa il fatto che l'aborto e le nozze gay sono due tra virgolette conquiste della modernità che ribaltano in modo più radicale quella che è stata la tradizione di circa due milioni di anni nella presenza dell'uomo sulla terra perché appunto l'uomo ha sempre protetto l'infanzia e ha sempre considerato il matrimonio da mater un'unione pubblica diciamo suggellata dall'autorità che fosse un'unione generativa, quindi un'unione endemicamente eterosessuale. Ora omogamica o poligamica conta poco ma caratteristica tipica del matrimonio è il fatto di essere una cellula generativa o potenzialmente generativa. Quindi nel momento in cui a miliardi di persone si riesce ad ammannire come sommo bene la conquista di due inversioni totali rispetto a quello che è l'ordine naturale e la tradizione umana fin dai tempi più antichi diventa un elemento di manipolazione totale perché se io riesco a far considerare queste due istanze come il sommo bene come avvenuto per esempio in Ucraina la quale sotto i bombardamenti ha fatto il referendum per le nozze gay cioè sembrano cose veramente lunari è chiaro che poi alla gente possa raccontare qualsiasi cosa non credi che ci sia anche un elemento diciamo di dominazione di plagio delle menti dietro a quest'opera dell'anticristo assolutamente il passaggio che tu citavi di benedetto decimo sesto appunto diceva che matrimonio omosessuale e aborto diventano i due le due colonne della dello spirito anticristico e e diceva sempre lui se ben ricordo che cento anni fa era assurdo parlare di queste cose di matrimonio omosessuale in modo particolare e ma che c'è proprio una forza scomunicante dello spirito dell'anticristo lui dice che è una forza molto forte che pervade gli spiriti quindi si sono c'è proprio questa forza che pervade lo spirito delle persone e e tutto poi si insinua sempre in maniera molto subdola e quindi come dicevo prima l'anticristo ha questa capacità di parlare in maniera ambigua quindi ecco di portare dietro le spagiamo dietro i termini ortodossi veicolare idee che ortodosse non sono ecco ecco mi ricorda qualcuno senti volevo chiederti una cosa visto che tu ti sei anche occupato delle credenze dell'elite globaliste qual è il rapporto fra gnosi e anticristo se c'è un rapporto ma guarda la gnosi è sempre stata una visione del mondo che si è contrapposta al cristianesimo è quella di fare dell'uomo un dio senza dio ricordiamo che la prima versione gnosica o gnostica la troviamo nella genesi quando il demo il diavolo dice ad amadeva sarete come dio cioè accedete all'albero dell'albero della conoscenza del bene del mare e sarete come dio questa è la gnosi primordiale e ricordo che poi la gnosi e l'ognosticismo che si studiano anche sui libri di filosofia l'ognosticismo che noi troviamo nel secondo secolo prima di essere una eresia cristiana è un'eresia ebraica la troviamo già nell'ebraismo ricordiamo che anche nei circoli dei farisei c'erano queste credenze gnostiche basta leggere poi il capitolo 8 del profeta ezechiele dove si legge appunto che gli anziani cioè quelli scelti da mosei quindi il sinedrio facevano dei culti idolatrici in privato adoravano serpenti cose del genere quindi l'agnosi c'è sempre stata è l'agnosi primordiale quella che troviamo all'inizio del mondo e che poi ctonia continua a scorrere durante il regno di israele e poi anche nella chiesa molto interessante questo dato sul fatto che i farisei praticassero i culti gnostici questa è estremamente interessante perché nell'agnosi c'è questo aspetto elitarista no noi siamo gli illuminati i pochi che che hanno accesso alla conoscenza ai segreti misterici iniziatici e quindi mentre il popolo bue segue la religione ufficiale noi abbiamo una forma di religiosità più evoluta e questo mi pone nelle condizioni di poter dire tu sei così tu sei cosa tu non sei non fai parte della tradizione non sei ecco non ti sembra di riscontrare in certi atteggiamenti di certo mondo tradizionalista una vena gnostica carsica segreta probabilmente che 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 non è non è consapevole cioè questa idea per cui noi che siamo i cultori del rito nella sua perfezione formale siamo una elite solo noi possiamo accedere ai sacramenti validi solo noi abbiamo accesso alla vera religione siamo in questo e voi tutti siete modernisti siete fuori siete modernisti conservatori modernisti tu pur eccetera secondo te tra i farisei eh 3.0 di oggi si possono ravvisare delle contaminazioni delle suggestioni gnostiche ma guarda Andrea non sono in grado di darti una risposta di questo genere perché eh non sappiamo poi cosa passi per la testa delle persone eh tieni conto che l'agnosi è la tentazione per eccellenza che tocca ogni uomo eh io mi sentirei invece più di trovare un collegamento come tu dicevi e con le elite di oggi perché eh l'agnosi che cos'è è questa eh salvezza per pochi questa dottrina per pochi per le scintille divine e eh che vede poi dividere l'umanità in tre sezioni le scintille divine cioè gli pneumatici gli illuminati poi abbiamo gli psichici cioè coloro che non sono illuminati non sono scintille divine ma se fanno la volontà degli illuminati prenderanno parte al loro paradiso anche se come cittadini di serie B e poi abbiamo gli irici cioè eh i terreni i carnali quelli che non contano nulla le bestie per cui quando noi sentiamo eh persone dire il mondo è progettato per tre miliardi oppure siamo troppi dobbiamo sfoltire ma nessuno di questi fa mai le valigie è chiaro che eh c'è questa tendenza a pensare di essere una elite superiore poi che queste persone tra volte anche i politici non siano scintille divine ma possano pensare di appartenere alla categoria degli psichici ce ne passa insomma ecco però c'è questa idea gnostica o gnosica che pervade la politica internazionale la geopolitica ma anche la stessa economia tutta quanta no il pensiero economico liberista ecco quindi eh l'agnosi è questa eh forma di pensiero che si oppone totalmente al cristianesimo e sono due eh forme due beltanschauungo due versioni due visioni del mondo due rocche che si eh contrappongono e che cercano di guadagnarsi il mondo. Ecco ma eh nonostante siano così opposte e divergenti come è possibile che l'anticristo specie se lo volessimo considerare come un capo religioso come un vescovo come un antipapa possa cercare di veicolare dei contenuti così opposti in modo così subdolo e eh non riconosciuto non percepito dal grande pubblico non è strano dire quello è bianco quello è nero però il nero riesce a sembrare bianco in modo così mimetico oppure appartenendo completamente all'altro versante non ti colpisce questa questa cosa? Ma è tipico dell'agnosi io ricordo che in alcuni eh trattati eh antichi e penso anche di cabala per esempio eh si portano avanti idee gnostiche usando i termini del teismo dell'ortodossia eh il problema è sempre questo cioè eh voler creare un uomo nuovo eh utilizzando un linguaggio e anche delle categorie ortodosse eh quindi io non vedo tanto non sono tanto diciamo così sorpreso perché è tipico dell'agnosi poi tieni conto che l'anticristo è una figura come dicevo è l'immagine della bestia e se leggiamo la bestia che sale dall'abisso come la massoneria come appunto ci ha indicato Agustin Le Mans ma anche altri teologi e ecco che allora l'anticristo diventa l'immagine della massoneria l'immagine delle elite gnostiche che vogliono sfoltire la popolazione mondiale per esempio o vogliono fare un grande reset. Ecco potremmo parlare anche di uomo immagine no? Di questa non solo dell'immagine ma anche di testimonial di eh personaggio sponsor che sponsorizza queste queste elite sei d'accordo? Beh sì eh d'altronde la figura dell'anticristo leggendo le scritture ma anche eh i padri della chiesa esce proprio questa figura questa immagine della bestia che viene costruita messa lì dall'altra bestia che appunto è la massoneria ecclesiastica la falsa chiesa quindi c'è una falsa chiesa che eh costituisce l'immagine della bestia e questa immagine però diversamente dalla statua di Nabucodonosor ricordi quel passaggio di Daniele dove eh loro non si inginocchiano e il re allora li condanna a morte qui invece è la stessa immagine della bestia a condannare a morte quindi è una persona è un uomo è l'anticristo che ci dipinge Paolo l'anticristo eh appunto più che essere un ente collettivo è un uomo è l'uomo dell'anomia è l'uomo figlio di perdizione l'uomo senza nome e non so se hai letto quel contributo mi pare di domenica no di un frate sì che ha pubblicato sul blog di Sabino Paciolla in riferimento alla profezia di Malachia perché appunto l'ultimo motto non ha un nome a cui riferirsi eh non so se ti è capitato di leggere questo articolo eh no non sono riuscito non conosco non conosco perché perché appunto l'ultimo motto di della profezia di Malachia eh siederà nella persecuzione estrema della chiesa non ha un eh un pontefice a cui riferirsi e allora diceva questo frate non viene nominato perché probabilmente dopo Benedetto XVI viene l'anticristo allora diciamo riepilogando questo anticristo dovrebbe essere un vescovo apostata che sta a Roma che è lo sponsor della massoneria internazionale che però è nullo non può essere Papa al massimo può essere un antipapa ed è un vescovo vestito di bianco e va bene chissà chissà mai chi potrebbe essere ma a questo punto ti vorrei chiedere perché molti dicono che eh Bergoglio sarebbe non l'anticristo ma sarebbe il falso profeta ecco che differenza c'è fra l'anticristo e il falso profeta e eh che cosa ne pensi guarda io eh non sono in grado di dire che sia l'anticristo né sono in grado di dire che sia il falso profeta ti posso dire che fra le due figure c'è una differenza il falso profeta lo pseudo profeta è proprio la bestia che sale dalla terra e mentre l'immagine della bestia è l'anticristo secondo i miei studi quindi l'immagine della bestia è l'immagine della bestia che sale dall'abisso che viene messo lì da lo pseudo profeta dal falso profeta quindi possiamo dire che il falso profeta è l'insieme eh potremmo dire di tutte quelle persone quindi quella parte di chiesa falsa e che eh propina eh una dottrina che non è quella di Cristo quindi il falso profeta potrebbe essere proprio questo questa figura questa bestia che sale dalla terra ma alcuni sostengono che l'anticristo dovrebbe essere un'autorità laica mentre il falso profeta un'autorità religiosa e eh rispetto a quanto ci stai dicendo dovrebbe essere l'opposto allora ma guarda il problema è questo che se noi leggiamo il vaticini di Daniele ci rendiamo conto che poi sono fatti sul ricalcando antioco quarto epifane che in realtà l'anticristo non è solo un vescovo ma è anche un sovrano temporale infatti nel venti kit e questo lo troviamo anche nelle varie diciamo nei padri e quindi lui è sia un vescovo apostata un bugiardo carrierista ladro eccetera e questi sono tutti quanti epiteti che ci arrivano ma anche re perché lui cambia i tempi e le leggi ci dice Daniele quindi potrebbe essere perfettamente un antipapa perché l'antipapa è comunque re è regnante per quanto sovrano illegittimo ma è anche vescovo dico bene allora eh ti riconto che l'ultimo anticristo è anche un sovrano temporale e Daniele ci dice che è un soggetto abbietto che arriva sul trono con la frode e viene messo lì da qualcuno ora antioco fu messo lì dai romani e quindi cerca di cambiare i tempi e le leggi cioè la legge di dio mostrandosi addirittura più misericordioso di cristo schede di cristo stesso quindi eh abbiamo queste potremmo dire ecco un po come una dissolvenza filmica no Daniele ci presenta l'anticristo e sovrano temporale e vescovo eh che decade dalla chiesa quindi un vescovo apostata questa è la figura che ci dà eh l'apocalisse Daniele ci parla anche di sovrano temporale quindi è sia l'uno che l'altro molto interessante senti Armando ma qual è l'obiettivo finale dell'anticristo secondo te cioè c'è proprio un un elemento che lui eh deve scardinare per esempio la transustanziazione cioè eh l'irruzione di di dio nel mondo di cristo nel mondo nella nostra realtà materiale è possibile che si tratti di questo l'obiettivo finale dell'anticristo ma l'obiettivo dell'anticristo è metafisico ricordiamoci che lui è l'uomo eh del cioè è l'uomo che rispecchia eh in un certo senso ecco se il eh se il papa il vicario di cristo l'anticristo è il vicario di satana quindi rientra tutto in ordine metafisico ehm tieni conto che ehm la figura dell'anticristo è una figura come dicevo prima di un grande umanitario pacifista europeista eccetera e eh anche ecumenista amico dei potenti ma anche dei poveri e dei deseredati quindi è una figura un po' particolare eh che trova in sé eh e la figura come dicevo prima del vescovo ma anche la figura del 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 sovrano ecco poi perdonami ma ho perso un attimino il filo della domanda se me la rifai no volevo sapere secondo te è possibile allora stavo riflettendo mentre parlavi visto che il cristo che cosa ci ha lasciato di più importante la chiesa e il sacrificio perpetuo dico dico bene dovrebbero essere queste sono queste le due cose più importanti che lui ha lasciato no? Sì guarda io ehm dice Fulton Sheen avrà un grande segreto che conosce solo lui non crederà in Dio e poi e quindi ecco poi anche solo nel suo racconto eh dice che l'anticristo non accetta la resurrezione di Cristo e dice no non è possibile non è risorto è marcito quindi l'anticristo è colui che odia Cristo che odia anche la sua azione soteriologica la sua azione di salvezza è colui che non sopporta e forse anche invidioso di Cristo quindi ecco c'è questa proprio c'è questo ateismo nell'anticristo e questo voler eh così eh distruggere anche la fede nelle anime forse perché se nessuno più crede a Cristo risorto allora anche lui sta a posto beh diciamo eh sarebbe il massimo del risultato per l'antagonista per eccellenza di Gesù Cristo ma appunto se Gesù ha lasciato nel mondo la chiesa e la transustanziazione io credo che obiettivo inevitabile dell'anticristo meglio ancora se antipapa non possa essere che quello di distruggere la chiesa e di abolire la transustanziazione sei d'accordo? Eh sì anche perché la massima impostura religiosa dice il catechismo ma soprattutto Daniele ci ricorda che cercherà proprio di eh di fermare il sacrificio di sospendere il sacrificio perenne questo ce lo dice Daniele e poi introdurrà l'idolo nel tempio quindi eh sono tutti questi dei dettagli che ci dà Daniele eh quindi introduce scusami se ti interrompo introduce l'idolo nel tempio ed è anche necromante dico bene? Sì questo ce lo dice Bagnosa sì eh allora potremmo ricordare a margine così giusto per curiosità l'intronizzazione di Pachamama un idolo pagano e in San Pietro e eh quanto Bergoglio ha fatto in Canada partecipando a un'evocazione degli spiriti tramite nonna occidentale anche detta nonna ragno. Caro Armando ehm che dire ehm penso che non ci sia nient'altro da aggiungere non si può dire chi è l'anticristo però eh un po' di conti si possono fare e io consiglio a tutti la lettura di questo di questa ricerca eh sopraffina meravigliosa fatta da Armando Savini vi ricordo il titolo del libro si chiama L'ultimo anticristo identikit dell'uomo più diabolico della storia secondo le profezie antiche e moderne. Non so se vuoi aggiungere qualcosa prima di salutare i nostri ascoltatori? Guarda mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi di idolo nel Tempio e mi è venuta in mente appunto la profezia di Daniele perché Daniele prende sempre Antioco IV Epifane e eh dice che quando introduce eh l'idolo l'idolo è chiamato eh Shikuts in ebraico e il termine vuol dire idolo abominevole ed era usato spesso in riferimento ad Astarte la dea di Tiro e di Sidone nota anche come Terra Madre quindi questa era secondo me da Baal che generava poi tutti i viventi ed era anche conosciuta come Iside, Afrodite e Cibele quindi ecco e eh questo termine qui ebraico eh Shikuts inoltre si riferiva anche a Milkom e a Moloch che era l'idolo degli Ammoniti quindi ecco che chiedeva sacrifici umani specie quello di infanti ecco quindi era una piccola cosa che mi aveva in mente parlando del lido è tutto qua. Ecco eh possiamo dire che la grande madre è l'antimadonna se eh diciamo l'anticristo è l'anticristo la grande madre è l'antimadonna sei d'accordo su questo? Eh sì è possibile sì ipotizzare questo e diciamo ci sta come figura. Anche perché come ho già avuto modo di eh illustrare in passato la grande madre viene raffigurata nelle sue varie iconografie da Astarte, Cibele, Iside, Atena eccetera eccetera sempre con un atteggiamento di familiarità con il serpente mentre invece Maria schiaccia la testa al serpente come dice la Genesi io porrò in unicizia fra te e la donna appunto eh riferito al serpente quindi eh diciamo tutto mi sembra molto netto molto preciso uno è l'opposto dell'altro solo che questa eh radicale abissale insanabile eh divergenza è difficile da percepire perché esattamente come il cristianesimo è la massima verità e l'anticristianesimo non può essere che il massimo della menzogna e quindi anche il massimo della mimesi sei d'accordo? Sì il tuo ragionamento non fa una piega oserei dire. Ti ringrazio molto Armando eh eh allora eh grazie. Cari amici mh prima di salutarvi vi ricordo i prossimi appuntamenti con le conferenze su codice Ratzinger e ricordo con grande piacere che ad Arezzo eh Armando Savini è intervenuto durante la conferenza e io spero che questa eh che questo possa replicarsi quanto prima. Vi ricordo le prossime date il quattordici alle ventuno ad Ancona a Largo Fiera della Pesca undici trovate in questo podcast tutte le le locandine poi a Teramo il quindici a Brescia il ventidue e ad Aosta il ventisette. Grazie a tutti coloro che si sono iscritti a questo canale che hanno messo qualche like e che hanno voluto eh offrire qualche sostegno per la sua attività tecnica. Un grazie di cuore ancora ad Armando Savini vi raccomando l'acquisto del suo splendido volume L'Ultimo Anticristo e a risentirci presto. A presto.